Ancora niente, tu? No, niente, niente, da nessuna parte Ma era tanto importante? Beh, sì! Eh, ero in finale a un concorso Mi spiace Beh, e tu? Io, ah, io avevo una festa su Houseparty Che cos'è? Houseparty è una nuova applicazione Praticamente consiste nel fare delle videochiamate di gruppo Così è come se tu vai ad una festa Anche se poi rimani a casa tua Eh, è carino Vabbè, niente Che dice adesso se entriamo che fa freddo? Cioè lo so che voi russi non la sentite infatti Io non sono russa Mio padre era italiano, va bene? Ecco, adesso che ci metti anche tu No, cioè no, infatti tuo padre che è italiano avrebbe detto Entriamo che fa freddo perché lui... Va bene, entra, adesso arrivo, dai Vabbè Dai, arrivo Chiudo